E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraftita, se non erro 645esimo episodio di svolta oggi, eccezionale, ci serve quella marcia in più che dovevamo ottenere dal nostro mondo e che oggi andremo a prenderci con la dovuta prepotenza e voglia di rivincita. Tac, ci sono 9 teste di wither qua, 9 teste di wither che andremo ad utilizzare per ucciderlo, per massacrare il wither boss, oggi ce ne sono, uccideremo appunto 3 wither boss per mettere altri bigon stone facendo alcune modifiche al nostro mondo, ovvero ho preso parecchio oro e l'ho portato, no non è parecchio però ho un po' d'oro e l'ho messo qua, quindi stavo pensando anche magari di ritrasferire tutta quella parte dell'oro, magari portarla qua e disseminare ogni tanto, è bella la città dell'oro ma è anche vero che secondo me farla lontano, ai suoi pro e i suoi contro, quindi sono portato magari a fare una costruzione d'oro là sopra, magari utilizzare un po' d'oro anche qua, stiamo espandendo sta città un botto e quindi, beh non lo so, fatemi un po' sapere voi che cosa ne pensate, detto questo ragazzuoli ci prepariamo anche al world tour che ci sarà tra poco appunto, sto spingendo un botto per diciamo migliorare il tutto. Mi porto dietro un ender chest, un ender chest, 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 per avere sempre un po' di inventario a disposizione voglio prendermi anche della sabbia delle anime proprio per l'occasione, lascieremo tutto di sotto, non ci serve granché roba, in verità ci servirebbero delle frecce, cosa che non ho in minima parte, una freccia, e vabbè dai ci va, si va di spada, tanto abbiamo un'armatura molto più forte, quindi potremo tranquillamente prendere ammazzate chiunque si metta sul nostro cammino. Il micelio si sta espandendo piano piano, certo ci vuole ovviamente tanto, però, signori miei, che bisogna far è nada, nada, ci andiamo a fare sti beacon e poi iniziamo a fare anche una colorazione un po' diversa al beacon, ma questa è tutta un'altra storia che vedremo tra poco. Equipaggiamento preparato, ci siamo, siamo soltanto sprovvisti di underpower, ma dato che l'ultima volta non c'erano servite più di tanto, penso che potremo tranquillamente fare buon viso a cattivo gioco in... porca troia, siamo vicini in effetti, siamo un botto vicini. Quindi confido nell'ucciderla male subito sta bestiaccia, spero vivamente di ucciderla male subito. Ok, facciamo così, così, questo dobbiamo spaccarlo perché se no non riusciamo ad evocare il bestione, metterlo qua, fare così, tac, onde, e troia! Eccolo qua il Witherao, meravigliao, riprendiamo il tutto, ci mangiamo anche una bella meletta d'oro nel frattempo, ci prendiamo una potion of strength, dove cazzo sta? Ci mettiamo sta strenghina un attimo, abbiamo tutto quello che ci serve, lo iniziamo a massacrare di botte, oh, 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 no, no, me non ci hai capito una emerita sega. Allora, bestia, Witherone, Wither, vieni giù, fatti, 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 vieni giù, porca miseria, ok, se ne è andato, non è che mi piaccia proprio questa alternativa, devo essere sincero, non è il massimo, ok, se lo riusciamo a dittare così va bene. Se lui però si deve abbassare, ecco, non è che siamo messi proprio benissimo in questa situazione, devo essere sincero, il primo Wither che mi inizia a dare un po' di problemi, perché se non li riusciamo a togliere, eh, ci servono le frecce, devo andarmi a prendere le frecce per forza. Ho assorbimento, quindi bene o male riesco tranquillamente a fare, a contrastare i danni del Wither, che però, continuando così, certo, ci dà fastidio, ci dà un botto di fastidio. Prendiamo sta pozione della vita, siamo venenati ancora per 4 secondi e, ragazzi, se ne sta andando, dove cazzo sta andando? Wither, devi scendere, devi venire ad affrontarmi, così non va bene, dobbiamo trovare una soluzioncina. Ok, si era abbassato un attimo, però, non l'ho perso completamente di vista, vi giuro. Oh, madonna, ragazzi, eh, non è proprio bellissima la situation. Oh, ok, non ho l'arco, l'arco serve, ragazzi, dobbiamo portare l'arco la prossima volta, quindi, lui resterà confinato qua, io posso andarmi a prendere delle frecce e poi lasciarlo qua, perché utilizzare altre... No, vabbè, sapete che vi dico? Vaffanculo, resta qua, Wither, io me le vado a prendere, farai un casino boia, ma venite a prendere delle frecce, che tanto la farm di frecce, che sta qua vicino, ce le dovrei avere, perché ho farmato un po', quindi, eh, bene o male, le frecce ci dovrebbero essere, e me le vado a prendere, torno giù e lo massacriamo. Ragazzuoli, uno stack e 7, quello che abbiamo preso. Uno stack e 7 frecce, ci prendiamo questa roba qua, se te lo posiamo di qua, questo lo leviamo, leviamo anche questo, ci prendiamo un'altra instant health, e andiamo a massacrare i bot. Adesso il ragazzuolo, sperando che non si sia mosso più di tanto, la barra della vita ovviamente è piena, la sua, noi siamo senza niente, dovremo utilizzare un'altra mela d'oro, ma... Fotte sega, mangiamola, eccolo qua, lo sento, lo stronzo, lo sento, lo avverto, avverto la sua presenza, ma non avver... non vedo dov'è. Bestione? Viderino? Vider? Eh, calla, il bestione è arrivato, che poi non mi posso muovere granché bene se miro con l'arco, però sarebbe il caso di tenere la mira pronta. Ah, guardate, si sta... Guardate, eccolo, via, 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 ok, perfetto. Dobbiamo stare attenti. Buono così, vieni qua, tranquillo, non avere paura. Non essere timido, non essere timido, non ti arrabbiare, ecco che ci ha avvelenato, ma va bene lo stesso. Lo dobbiamo soltanto stancare, lo dobbiamo far arrivare in basso, e poi possiamo tranquillamente andarcelo a prendere. Vieni qua, vieni qua, bestiola, che io faccio di tutto per non farti volare e tu voli, madonna, che urto di nervi. Vieni qua, 3 di fila me ne ha tirate, porca miseria, che botte. Stiamo faticando più del previsto, anzi, stiamo faticando molto più del previsto, dammi una regeneration. Oh, e vieni giù, porca miseria, oh, che urto di nervi, sto wither. Non voglio morire, ecco qua, che sei venuto giù, perfetto, dammi strength. Adesso ti massacro di botte, oh, e vai così, uccidilo male, uccidilo male, adesso figlio, eh, adesso mio caro, non hai grandi possibili da mangiare l'ameladoro, corri, 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 ma porca miseria, ok. Perfetto, adesso è morto male, madonna, abbiamo faticato a un botto per uccidere sto stronzetto. Oh, e muo, e dai, ce la fai a morire male? Grazie. Insomma, sta una bella faticata, anzi, veramente, veramente faticoso uccidere sto wither, più del previsto, molto più del previsto, abbiamo utilizzato quasi tutte le pozioni a nostra disposizione, e in più abbiamo utilizzato, eh, le cose, cioè, in più dico, le mele d'oro, quattro mele d'oro per uccidere sto wither. Madonna, e ho rischiato anche di morire, no buono, no buono, no buono. Ora, sono tornato a casa, ho preso tutte le bellissime cose di cui abbiamo bisogno, obsidian e vetro, ci andiamo a fare già il primo, eh, il secondo, in verità, beacon, a parte una nether star l'abbiamo persa, no, vabbè, vabbè, eccolo qua il beacon. Biconcino, ci prendiamo anche un pezzettino di ferro, di ferro, e andiamo fuori a mettere il potenziamento che ci spetta. Potremmo già fare una cosa interessante, guardate un po', eh, tac, risaliamo, ne ho messo, ho allungato di parecchio, eh, devo essere sincero, magari qualcuno è anche superfluo, però il secondo beacon almeno lo abbiamo messo. Ci mettiamo questo potenzialmente, direi di prendere un resistance 2, tac, perfetto, adesso sa, deiterà, e abbiamo così resistance 2, eh, speed e, eh, regeneration. Piano piano, prenderemo tutto regeneration 2, purtroppo non si può ottenere, però abbiamo già due beacon, e così via, continueranno, fidatevi ad aumentare, almeno altri due li andiamo a mettere, però andiamo a decidere gli altri due wither in maniera un po' più tranquilla e soprattutto sicura, perché vorrei evitare di incazzarmi come un piccolo caimano perché magari fatico a uccidere i wither boss, dato che poi non ho più protezione e dovrei riprepararmi, ma questo richiede tempo e dato che possiamo ucciderli in maniera un po' più soft, penso che sarebbe una bellissima idea provarci, a tra poco. Ora, dovrebbe funzionare se io inizio a mettere, tipo, teste una... che cazzo ho fatto? Una qua, una qua e una qua, si dovrebbe evocare il witherone, esatto. E poi dovrebbe rimanere bloccato nella bedrock, spero, almeno, non cadere, ti prego, no, non cadere, ho fatto la cazzata perché mi si è creato male, mi si è creato male? No, ok, perfetto, però easy, 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 easy ucciderlo, easy, molto, molto easy, più easy del previsto ucciderlo male, anche se ho una paura della madonna di sbagliare, però dovrei riuscire a massacrarlo malissimo, tra poco mi dovrebbe ridare la nether star, ok, ci siamo riusciti abbastanza bene a ucciderlo male, guardate, ci siamo, uccidilo, ultima parte, perfetto, nether star presa. E eccola qua un'altra, molto bene, mettiamo qua dentro, easy, ci riprendiamo gli ultimi quattro pezzi, tac, lo ricreiamo esattamente nella stessa posizione, quindi facendo una roba del genere così, lo metti uno a chi, uno di qua, ci metti uno, due e rimangiamo prima, voglio più che altro riprendermi, essere sicuro di non morirci male, riprendiamo tutta la vita e lo andiamo a rimassacrare, abbiamo ancora un minuto di strength, dato che avevo leo strength da 8 minuti, quindi ci dà anche un'ulteriore mano a massacrarcelo, so stronzetto, ci riprendiamo l'ultima nether star e andiamo a fare il quarto beacon, che, beh, figa, tanta roba il quarto beacon, lui prende danno da solo, se io sto qua, mi prende invece, mi prende lo stronzetto, vabbè, comunque mi prende una volta ogni tanto, non è problematico, adesso dovrebbe essere arrivato a metà vita, perfetto, metà vita passata, easy, guardate, easy, uccidere il wither così è una figata, oddio, oddio, si sta scendendo, sta scendendo, sta scendendo, sta scendendo, uccidilo male, ucciso, nessun problema per noi ragazzuoli, ci ha distrutto la, eeeh, ci ha distrutto la cosa, vabbè, fotte sega se ci ha distrutto la cosa, è che me ne cambia granché, qui ci rimettiamo il coso, richiudiamo tutto, fotte sega, e ce ne possiamo tranquillamente ritornare di sotto, andando a creare, nuovamente, la nostra bellissima, la nostra bellissima, i nostri due bellissimi beacon, ce l'ho uno nell'ender chest, ricordo di netherstar, quindi tranquilli, siamo a posto, eccoci qua, per una volta voglio seguire le stradine, ce l'ho fatta apposta, non le seguo mai, quindi, vabbè, fotte sega, se non c'è, non è obbligatorio seguire le stradine, però, carino, fa figo, la strada, l'ho fatta apposta, magari ogni tanto le possiamo anche seguire, possiamo sta roba che non ci serve, andiamo a riprendere la roba che sta qui, questo lo leviamo, questa la prendiamo, nient'altro che ci serve in maniera particolare, questa la possiamo posare, ci prendiamo intanto il vetro, ci prendiamo anche l'ossiliana, perché non so se sì, ci sarebbe bastata, perché vabbè, l'ho messa così, l'ho messo questo in mezzo, le due netherstar, ci prendiamo sti due cosi, tac, ecco qua i nostri beacon, poi, riprendiamo l'ossiliana, riprendiamo questo, ho tanto vetro, ha messo a cuocere, se non erro, infatti ce n'è, qui alcuno, di qua, tac, eh, l'avevo messo per la costruzione da fare sopra, che poi non si è fatto più niente, però, non c'è, basta, così poco? Oh, figa, pensavo fosse più, perché adesso dobbiamo fare anche un'altra cosa col vetro, poi, abbiate pazienza, vi mostrerò, todo. Ragazzoli, i potenziamenti che abbiamo sono veramente incredibili, Jump Boost 2, Speed 2, Strength, Resistance 2 e Regeneration, è uno spettacolo assoluto, madonna, salto come un caimano, è veramente salto come un cazzo di caimano, è assurdo, i caimani non saltano, un coniglio, beh, i conigli saltano, sì, salto due blocchi, figa, salto due blocchi, che spettacolo, poi, questo fascio di luci incredibili, abbiamo posto per tanti altri beacon, ne possiamo mettere altri tre, eh, vabbè, altri tre, che pensavo ci volesse così tanto, invece, poi, guardate, quando saranno tre, sarà davvero una figata, riesco a saltare, eh, no, perché questi sono due blocchi, tre e mezzo, no, vabbè, tre e mezzo mi sembra eccessivo, ma, tipo, due e mezzo li salto, salto un bot, ragazzi, tipo, eh, no, non ci arrivo, hop, non riesco a saltarlo, tre, sono troppi, due e mezzo salto, quindi così posso farlo, così posso farlo, così posso farlo, e poi posso fare anche così, con speed e boost, salti una cosa infinita, ora voglio fare una figata, no, che dobbiamo assolutamente creare, ci serve questo, ci servono un po' di fiori, dovremmo fare un po' di tinture, esatto, perché voglio fare alcune cose che secondo me sono un botto fighe, questa è la tintura viola, poi se io prendo il viola e lo schiarisco con questo, il bone meal, che cosa viene fuori, sto facendo delle prove, degli esperimenti e non viene fuori un cazzo, perfetto, ok, va bene, quindi abbiamo, ho fatto questo e si fa col rosso e il blu, non so se l'ho messo in video, non mi ricordo, poi abbiamo questo da mettere qua, questo qui, poi dobbiamo schiarirlo, tac, riesco a schiarirlo un po' facendo il light blu e va bene, poi ci serve un altro blu un po' più chiaro, che non so però come si fa, purtroppo, e dico purtroppo, non possiamo fare quello di mezzo, perché ci mancano bene o male i materiali, esatto, ci mancano i materiali, perché dobbiamo andare a trovare per forza i cactus, se no siamo impossibilitati a creare certe cose, fotte sega, non è che mi, che muoio male per questo motivo, però un po' mi dispiace, facciamo questo, 8 per forza dobbiamo fare, 8 di questi per forza, 8 di questi per forza e anche di questi per forza, 8, va bene, non è un problema, adesso li andiamo a mettere, e la iniziamo a creare il primo nostro arcobaleno, sarà da, ovviamente, verrà modificato il nostro arcobaleno, verrà ingrandito, migliorato, piano piano, verrà sempre più creato, vediamo un po', eh, di qua ne dovrei allargare un paio di qua, e va bene, fino a un paio di qua ci arrivo, di qua ne posso creare, allargare di uno? no, non posso allargarlo di uno di qua, perché c'è la torre e tutto il resto, insomma, non possiamo farlo, quindi, viola, magenta, blu, tac, e poi dovremo mettere il nostro, quest'altro blu, lo mettiamo qua, eh, e lo so, ragazzi, non c'è posto, e poi ne dovremo fare tanti altri, qui c'è andava il blu, il ciano, e non siamo impossibilitati a farlo, il ciano, e poi verrà a crearsi tutto il nostro arcobaleno, bello e lungo, e sarà una bella figata, ragazzi, penso che per questo video possa essere tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se avete fatto, di condividere il video su Facebook e farmi lasciare una persona, mi raccomando, passatevi tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram, diciamo come al solito, a un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!